Con decreto 28 dicembre 2009 pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 12 gennaio scorso è stato indetto un concorso per 200 posti di notaio. L'esame è composto da tre prove scritte riguardanti un atto di ultima volontà e due atti tra vivi di cui uno di diritto commerciale, tre prove orali in materia di diritto civile, commerciale e volontaria giurisdizione, ordinamento del notariato e degli archivi notarili e disposizioni concernenti i tributi sugli affari. Le domande di iscrizione al concorso devono essere presentate entro il 26 febbraio 2010.